Sono le ultime parole che ho pensato in questa stanza e sono poi le sole e non sono mai abbastanza per dire che grazie e ringrazio tanto tutti quelli che hanno suonato che sono stati accanto quelli che hanno un po' aspettato che fosse la fine e non so più davvero se è tutto bello o tutto brutto quanto c'è di sincero o quanto ho fatto il farabutto comunque si va avanti ci si alza dalla sedia credimi crediti perché per tutti quanti questa vita è un po' commedia per chi conosce l'album Io sono qui di Claudio Paioni sa che questo è l'intermezzo finale dell'album ci sono vari intermezzi fra un blocco di canzoni ed un altro questo è l'ultimo che si chiama Tra le ultime parole da Dio io ho fatto soltanto la prima parte perché poi diventa difficile da cantare però è molto bello parte con un giro di Do tra le ultime parole poi il Sol con il basso di Si alla fine ci saranno tutti gli accordi che ho pensato in questa stanza questa è la settima quarta con il basso di Si bemolle che sono poi le sole la settima e non sono mai abbastanza per dire che grazie Fa io li ringrazio tanto Fa minore tutti quelli che hanno suonato Do che sono stati accanto quelli che hanno un po' regolano il basso di Fa diesis quelli che hanno un po' aspettato che fosse la fine Fa e non so più davvero se tutto Do su tutto bello tutto brutto Re minore settima quanto c'è di sincero so settima e quanto ho fatto il farapunto qui è un La minore settima seguito da un basso di Sol e quanto ho fatto il farapunto Fa comunque si va anche Fa minore ci si alza dalla sedia credimi crediti Do perché per tutti quanti regolano il basso di Fa diesis Fa questa vita un po' Fa minore Comedia Do Grazie a tutti Grazie.